È un'emozione grandissima, quando il mister mi ha chiamato, mi sono fatto una corsa, non l'ho mai fatta in vita mia, sin da quando ero piccolo provavo questo desiderio qua e oggi si è avverato. Consigli per futuri calciatori, perché di questo format? Beh, intanto parto dal sogno, ho fatto vedere il video dell'esordio di Nicola Zagnolo, che è esordito con me all'Entella, quando aveva 17 anni, perché se a base non ci fosse il sogno, insomma, non c'è niente. C'è il desiderio proprio di raggiungere certi obiettivi e di mettergli una priorità a tutto il resto. Però dopo il sogno bisogna anche costruire un percorso e nel percorso, a dirà della volontà, a dirà di tutto il resto, bisogna anche capire come fare per diventare dei calciatori più forti. Non basta saper palleggiare o colpire la palla nella maniera giusta, ma c'è anche dietro tutto un mondo che bisogna conoscere. Quindi l'idea di questo tipo di format è proprio quella di trasferire queste competenze, competenze che io ho fatto in 15 anni di allenatore e che mi hanno fatto capire quali sono le differenze proprio tra un giocatore professionista e un giocatore direttante. E poi all'interno anche proprio del professionismo, le differenze che ci sono e che spesso uno trova nelle varie categorie, quindi tra chi gioca in serie A, chi gioca in serie B e chi gioca in serie C. perché chi vuole fare calciatore ha bisogno di metterci sicuramente duro lavoro, ma deve anche capire che il lavoro va messo nelle cose giuste e non bisogna perdere tempo magari in scelte sbagliate. Trovo appunto tantissimi giovani che mi chiedono come possono essere aiutati. In questa domanda tante volte magari mi chiedono il nome di un procuratore, il nome come poter fare un provino con una squadra professionista, ma queste vengono dopo perché a di là delle conoscenze bisogna essere bravi. E per essere bravi appunto non basta quello che fai nei campetti sotto casa, ma ci vuole proprio un percorso di miglioramento che passa non solo dal punto di vista tecnico o dal punto di vista fisico, che sono sicuramente importanti, ma secondo me è un aspetto che curano in pochi e che per me è fondamentale, ma non solo per me, è proprio la qualità delle scelte, cioè cosa fare in campo in base al ruolo, in base alla zona di campo, in base al tipo di situazione che si viene a creare. La qualità delle scelte quasi sempre fa la categoria, perché uno può essere bravissimo a stoppare la palla, ma se con lo stop invece di andare in avanti verso la porta avversaria quando un po' torna indietro, questa è una scelta che limita molto il gioco della squadra, quindi capire cosa va fatto. Poi in base al ruolo, che tu sia un difensore, che tu sia un difensore centrale, un terzino, un centrocampista, un esterno d'attacco, una punta, ancora di più le scelte vanno specializzate e vanno appunto rese congruenti con quella zona di campo che copri. Per poter migliorare, guardare quelli bravi diventa un grande aiuto e ti fa migliorare senza far fatica, perché praticamente in base alla tua tecnica capire cosa fare in campo ti rende un giocatore migliore. Cosa vuol dire guardare gli altri? Non basta vedere come stoppano la palla col tacco o come mettono la palla all'incrocio, ma bisogna capire come si rapportano in base alla posizione dei compagni, in base alla posizione degli avversari, come intercettano magari i passaggi degli avversari, quali tipi di scelte fanno nelle situazioni di gioco, quando verticalizzano, quando cambiano gioco con un lancio, quando invece sono bravi a smarcarsi con un passaggio di prima. Tutte situazioni che possiamo studiare e vedere appunto vedendo le partite dei grandi, non soffermandosi su appunto il colpo ad effetto, ma proprio studiando il giocatore che a te interessa. Ognuno di noi ha dei giocatori preferiti. Io per esempio facevo il centrocampista e cercavo di guardare i giocatori che hanno le mie caratteristiche. Se faccio il centrocampista, per esempio, non è il caso mio, è solo alto 1,90, però non dovrò guardare un giocatore come Verratti. Magari è più facile che io assomigli a Pobega del Torino, del Milan, e quindi guarderò quel tipo di situazioni e come lui è bravo ad affrontarle. Poi, appunto, in funzione di quello che vedo, cerco di applicarlo, di metterlo nel contesto dove io m'alleno, perché al di là dei suggerimenti che può darmi il mio allenatore, che sicuramente sono quelli più importanti perché bisogna sempre fare riferimento all'allenatore, però c'è un percorso di miglioramento personale che io porto avanti da solo e cerco di migliorare sempre. E quindi quello che vedo, poi lo applico negli allenamenti, nelle partite, nelle situazioni. Da qui nasce l'idea, appunto, di creare questi video e, appunto, se poi vedi che questi video ti interessano, iscriviti anche al mio canale, perché l'idea è di crearne sempre di più per analizzare più situazioni, perché non solo quello che vedi tu, ma anche, come te lo spiego io, può essere importante. Capire, appunto, come va a stoppata la palla per un difessore centrale, andremo a vederlo in qualche video. Come la scelta del passaggio per un centrocampista, andremo a vederlo in un altro video. Cioè, in maniera proprio di sviluppare tutte le varie situazioni e un pochino codificarle e renderle più semplici e più chiare per tutti quanti. Partiremo, proprio, già dalla prossima settimana, con il controllo. Valuteremo come, a volte, la scelta di un controllo è già diversa tra un giocatore di serie A, ad esempio, e un giocatore di serie B, dove entrambi sono professionisti e sono i massimi a livelli, però la qualità delle scelte farà veramente la differenza. Io continuo proprio a insistere sulla qualità delle scelte, perché, te lo garantisco, tanti giocatori che ho incontrato, sia quando giocavo io, perché poi dopo da calciatore ho fatto vent'anni, tantissimi di serie B, ma ho avuto anche esperienze discretamente importanti, perché ho giocato nel Parma di Buffon, Cannavaro, Turam, quindi ho visto veramente anche i campioni, e poi ho un po' di allenatore anche lì allenando di ragazzi molto interessanti. E vedo che, appunto, tante volte i più forti non sono solo quelli che hanno grandi qualità tecniche o fisiche, perché appunto anche fisiche sono fondamentali, ma sono quelli che sanno sempre cosa fare al posto giusto. Quindi, te lo ripeto ancora, l'idea è, in questi video, in questo format di consigli, è di andare a lavorare sulle tue scelte, su cosa devi fare in campo e sulle cose che appunto fanno la differenza in campo. Se poi hai bisogno di qualche consiglio in più o hai qualche dubbio, scrivimelo anche nei commenti che nelle volte che andremo ad approfondire certe situazioni, magari andremo ad analizzare anche le cose che ti vengono meno chiare. Allora, intanto, buon lavoro, spero che appunto, te lo ripeto, che questi video ti siano d'aiuto, appunto sempre con l'idea di creare un giocatore più forte e che possa nel tempo, attraverso tutto quello che può migliorarlo, quindi appunto gli allenamenti e non solo, possa magari, come è capitato a Niccolò Zagnolo o come è capitato a tanti altri ragazzi, realizzare il suo sogno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.